Il gruppo ha riabbracciato i tanti nazionali impegnati a 6 nazioni e anche giocatori reduci dai propri infortuni come Bellini e Violi. Quest'oggi a rispondere ai microfoni del sito internet delle Zebra è il tallonatore Fabiani, pronto come di consueto a dare battaglia sabato al Tomon Park. Ciao Oliviero, come ti sei avvicinato al ruolo di tallonatore e chi è stato il tuo modello nei primi anni di attività? Diciamo che il ruolo del tallonatore l'ho sempre svolto, anche a causa del mio fisico, ero un po' più grosso rispetto agli altri ragazzi e quindi già all'età di 16 anni mi ero avvicinato alla prima linea. Diciamo che il mio mentore, inizialmente il mio esempio, può essere stato uno dei miei primi allenatori che è stato anche allenatore qui alle Zebra, che è stato Vittor Jimenez, con cui ho iniziato a giocare in prima squadra e lui era allenatore, giocatore, lui giocava tallonatore, quindi è stato un po' una persona che mi ha accompagnato nel ruolo e anche nella mia carriera regbistica. Sei cresciuto nella primavera rugby, poi come hai detto sei passato alla Lazio Rugby Roma e la pallovale. Nel 2000 la Rugby Roma vince il Super 10 e il Flaminio ospita il suo primo sei nazioni. Quanto questo ha influito sulla tua scelta di affrontare e fare di questo il tuo sport? Diciamo che sono due episodi molto importanti per la mia crescita regbistica, diciamo che sono due episodi che mi ricordo veramente con grande entusiasmo e con grande piacere. La prima partita della Nazionale al Flaminio è stata un'esperienza unica per me e anche per tutti i miei compagni dell'epoca perché è stato un evento bellissimo che ci ricorderemo sempre. Lo sculetto della Rugby Roma è stata una cosa strana perché diversamente dalla partita della Nazionale era un qualcosa un po' più di familiare, un po' più di sentito, proprio della tifoseria romana. Io non tenevo per una squadra perché comunque non ero parte della Rugby Roma, però è stata una cosa comunque molto importante per la mia crescita regbistica. Quanto invece oggi il grande rugby internazionale e la festa davvero unica del fuoritalico è utile alla promozione del rugby nella capitale e nel Lazio? Beh, diciamo che la festa durante il sei nazioni è qualcosa di incredibile. Lo si può vedere proprio tramite il villaggio, prima, durante e dopo la partita, che è una giornata proprio di festa. È un qualcosa dove tutte le persone che magari non sono molto vicine al rugby riescono a capire quanto sia bello e divertente avvicinarsi a questo sport e respirare l'atmosfera sia della città che di una partita di rugby di questo livello. L'alimentazione è sempre più importante nella vita di uno sportivo. Come la Metabolic Academy delle Zebbere ha cambiato in meglio le tue abitudini e le tue prestazioni? Diciamo che nella vita di uno sportivo professionista l'alimentazione è fondamentale. Devo dire che da quando sono arrivato qui alle Zebbere, con l'aiuto del Dottor Cioni, siamo riusciti a stabilire un rapporto tra noi giocatori e tutta la parte dello staff medico, fisico e compreso anche il Dottor Cioni, con cui riusciamo a interagire molto bene e con cui riusciamo a ottenere degli ottimi risultati. Hai appena festeggiato il primo compleanno di tuo figlio. Cos'è cambiato nella tua vita di sportivo professionista dopo il matrimonio e questo lieto arrivo? Beh, diciamo che più che nella vita da professionista è cambiata un po' la vita in generale. In poco più di un anno, un anno e mezzo sono riuscito a raggiungere una maturazione che non pensavo che arrivasse così velocemente. Ci si rende conto in generale di responsabilità che uno ha in più sia in campo che fuori dal campo ed è comunque un piacere ed un onore avere queste responsabilità. Sicuramente sotto il punto di vista sportivo bisogna velocemente maturare perché i ritmi cambiano, il tempo di riposo cambia, gli impegni extrasportivi cambiano ma è comunque un qualcosa di positivo e quindi bisogna saper capire quando bisogna riposare e quando non si può riposare e quindi sapersi gestire anche i propri carichi. Sei insieme a Palazzani il centurione più giovane della storia del club. Che cosa consiglieresti ad un giovane futuro innesto delle zebbre per aiutarlo nell'entrare nelle dinamiche di una franchigia professionistica? Sicuramente per un giovane che arriva a giocare nella franchigia la prima cosa è il lavoro. L'unica cosa che parla sui campi da rugby a qualsiasi livello è il lavoro. Quindi testa bassa, ascoltare le persone che possono essere allenatori o giocatori leader o giocatori chiunque ti possa dare un consiglio, farne tesoro e continuare a lavorare. Per me è l'unico modo per poter raggiungere degli obiettivi a qualsiasi tipo di livello che sia la franchigia, che sia la Serie C, che sia l'Under 16 o qualsiasi tipo di sport e qualsiasi tipo di lavoro. Chi invece per te è stato da mentor all'interno dello spogliatoio bianconero in questi 5 anni passati qui a Parma? Beh, la lista è abbastanza lunga. Quando sono entrato per la prima volta nello spogliatoio delle Zebbre c'erano tanti giocatori che io ho visto solo in tv, come possono essere Mauro Bergamasco, Gonzalo Garcia, Amanda Aghero, lo stesso Marco Bortolami, Quentin e tutti loro mi hanno aiutato nella mia crescita appena arrivato che ero proprio giovane, molto molto giovane. Con gli anni sicuramente loro mi hanno aiutato ma devo ringraziare tantissimo giocatori di esperienza come Valerio Bernabò, Andrea De Marchi, Filippo Cristiano, giocatori che mi hanno insegnato il valore del sacrificio, la voglia e la dedizione per il lavoro e l'amore per questo sport. Anche lo stesso Andrea Manici è stato un esempio per me, anche se siamo coetanei per gli anni in cui abbiamo giocato insieme e avere una competizione con lui è stato bellissimo e mi ha insegnato tantissimo. Il tuo ruolo è il tallonatore, è uno di quelli più particolari sia a livello tecnico che di pressione mentale. Quali sono i tuoi segreti per preparare al meglio le grandi sfide? Il mio ruolo è un ruolo abbastanza delicato sotto il punto di vista dello stress per quanto riguarda i momenti cruciali della partita come possono essere le mischie o le rimesse laterali e sicuramente quello che ti può aiutare è lavorare in maniera ordinata e lavorare con un proprio schema logico che può essere una routine o qualcosa che ti riporti alla serenità. Quali degli aspetti del rugby ti è servito di più nella vita? Io dico sempre che il rugby oramai è la mia vita, quindi tutto quello che sono riuscito a fare nel rugby e tutto quello che ho imparato dal rugby in questi anni e che continuerò a imparare dal rugby mi servirà nella mia vita. Sicuramente anche per il futuro quando deciderò di smettere di giocare, tutti gli aspetti e i valori che il rugby trasmette mi serviranno per qualsiasi tipo di lavoro deciderò di fare in futuro e per questo è molto importante vivere le sensazioni e le esperienze che noi giocatori abbiamo e farne tesoro per anche il resto, il nostro futuro. Sei un leader naturale, lo testimoni della tua esperienza di capitano della Nazionale A7 dell'Italia prima del tuo arrivo qui a Parma. Presentaci questo stile, questo gioco di rugby A7 e in cosa secondo te è speciale? Semplicemente faccio quello che mi piace fare e mi diverte fare. Sì, il rugby A7 è uno sport diverso dal rugby A15 ma con gli stessi principi in realtà. Quindi vince chi avanza di più e chi fa più punti e per fare punti serve avanzare, continuare ad avanzare in attacco e in difesa placare e recuperare il pallone. Sicuramente essendoci meno giocatori all'interno del campo è un gioco un pochino più spettacolare, quindi un po' più tecnico e molto più fisico e atletico. Diciamo che essendoci meno giocatori come dicevo è più spettacolare ed può essere più divertente da vedere perché la palla è sempre in movimento, ci sono pochi punti di incontro, ci sono tantissimi gesti tecnici e qualità atletiche che magari ci sono anche nel rugby A15 ma che non possono essere espresse nello stessa maniera. Si è stato convocato dall'Italia all'ultimo 6 nazioni senza però scendere in campo, dopo l'amore in bocca di Tagli-Irlanda di poche settimane fa a Roma, sabato si tornerà in campo proprio in Irlanda contro il Manchester, secondo nel Girono delle Zebbre. Quanta voglia c'è nel gruppo di tornare alla vittoria? Nel gruppo la voglia di vincere c'è e c'è sempre stata in tutte le partite che abbiamo affrontato in questa stagione. Sicuramente la vittoria manca da qualche partita ma siamo sereni e convinti del nostro lavoro. Prima di pensare alla vittoria dobbiamo pensare alla nostra prestazione e costruire la nostra prestazione minuto dopo minuto, che sia, non lo so, qualsiasi cosa dobbiamo fare, noi lo sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo costruire la nostra prestazione e quello che verrà sarà tutto di guadagnato.